Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video e in questo nuovo video torniamo con la serie di Mafia 3 ragazzi come vi ho detto non è un gameplay completo e il missione secondare che facciamo insieme a voi e certe che sono, certe missioni che sono non secondarie, sono della storia ora dobbiamo andare qua che bucchio è un po' questo Porca della vacca E' un ammazzato come un polo Cazzo è già subito una morte Non abbiamo più i soldi Non ce ne abbiamo nemmeno un euro Dovino le vendite Almi di Santini Allora ragazzi Ho visto che sta andando molto bene Il mio canale Grazie a voi Da 56 iscritti Ma ragazzi Dobbiamo arrivare a 60 iscritti Così Aspetta un minuto Uccidi Dario Mutas Aspetta un minuto Non sono questi i miei obiettivi Ma aspettate Ma aspettate se scendo qua E vado su questo Dario Come si chiama? Murtas Dario Murtas Allora stai attenti ai coccodrilli Stiamo arrivati Oh quest'albero è diventato rosso Oh quest'albero è diventato rosso La buono è diventato rosso Vendete il fuoco La sono tirata io solo Porca vacca Allora stai attenti ai Non l'ha visto passare nessuno. Ma devo scoprire? Ma devo scoprire? No. Uccidiamo così. Sei tu? No, porca vacca, porca vacca. E io siamo morti due volte. Così perdiamo tempo inutile, raga. Dobbiamo perdere contro le minchiate, cazzo. Ora mi arriva il messaggio. Si certo. Cazzo. Si è 56 dollari. Ma come cazzo si fa? Se noi non possiamo... Porca vacca, se noi non perdiamo vita qua. No, 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 io mi uccido questa cosa. Andiamo ragazzi Aspettate Che abbasso il volume Del mio telefono Che cazzo Noi dobbiamo arrivare là Speriamo che lui Ammazziamo questo Ammazziamo No ammazziamo Questo Dario Murtas Lì mi sta prendendo di petto una parca Una parca Allora raga Noi dobbiamo andare là Gli dobbiamo uccidere Questo Dario Murtas Prendiamo questo Sì Sicura Sicura Ce ne è uno Aspettate Dove sto matto Questo sare Cazzo Ci rivaliamo qua In testa E' meglio che Le uccidiamo tutti Sono l'angelo Della morte Ma ci sembra che Nell'altra parte Ci sembrava Quanto sono i coglioni Quanto sono i coglioni Ce ne sono i coglioni C'è uno qui Quanto che Vediamo anche il corso Abbiamo ucciso questo Dario Della madonna Lincoln Clay Lincoln Clay Ma avete visto cosa ha fatto Ragazzi Ma quant'è forte questo Lincoln Clay Ci dobbiamo andare Chiediamo questi coglioni E' meglio che se ti levi da cazzo Cazzo dove Non è qui Ce n'è uno qui Quindi dove si uccide tutti Uccidiamolo Ok Uccidiamo anche questi ragazzi Voi non sapete di qua Quanto sono fero Ma che cazzo Dobbiamo uscire da qua No Porta il culo laggiù Non è qui Non è qui Non è il culo Non è il culo Quello ce l'abbia riuscito Ci manco a questo Ci andiamo Dovrebbe esci se tutti Ci andiamo Tanto per Che non prenderci dai coccadrilli E c'è la nostra macchina Andiamo Torniamo da mito ragazzi Davito scaletta Ragazzi farò tutte le missioni secondo lei certamente Però Vorrei fare tipo Solo tre missioni principali No dipende Tipo Come la prima L'ultima Che uscidiamo a San Marcano Penso sia l'ultima Se troverla E ragazzi Qui la farò con voi Per forza Dico possiamo diventare fino a 13 episodi Ragazzi Ragazzi non farò cazzeglio su MF3 perché Non c'è una minchia da fare su MF3 Anzi C'è stata la patch L'aggiornamento Ed è stato Anzi meglio Meglio Molto meglio Cambiare i vestiti Modificare l'auto Gare E ragazzi Non si può bere Non si può fare niente Non si può mangiare Cazzo Avete visto? Questa è una macchina modificata Era modificata Cazzo Guardate C'è un poliziotto lì Se c'ero io che camminavo Mi uccidevo Col poliziotto Allora ragazzi Dovevo tornare da Vito Lì Così Lì Guardate Un cane è tipo Un altro sportello Che è andato Un mischino Questi stanno sempre qua Nemmeno si muovono Ti giuro Andiamo da Vito Scaletta A quel che rimaneva del problema Ci ho pensato io Oh Merda Allora è finita sul serio Porca puttana Tutto bene? Vuol direi solo che Gioia Il morto sul serio Era un mio amico Era un fratello Volevamo diventare uomini Infilati E di uno stronzo Di nome è Leo Calante Un pezzo grosso Della commissione Alla fine E' andato a tutta puttana E ci hanno fattuto Ecco che ti succede Quando seguo gli ordini Sono passati un paio d'armi Non sapevo se Gioia O altro Quando l'hai saputo? 4-5 anni dopo essere arrivato qui Avevo ancora un po' di influenza Laggiù Ho ottenuto le orecchie aperte Ho saputo che uno dei tizi In macchina con Gioia E poi in giro E' uno che non regge l'alcol E l'hanno sentito parlare Di uno spione Che deve fare fuori Per conto di Leo Stessa spione Che gli ha rotto i denti E gli ha spaccato la mano Direi che Gioia Mi ha reso la vita facile Hai ragione Gioia 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 Non sarebbe mai capito Senza combattere E' riuscito a scappare E si è dato alla fuga Per un po' E' andato a Chicago Per farsi aiutare Da un paio di amici E invece quelli L'hanno fottuto Lo sanno tutti Com'è andata L'hanno picchiato a Santa Mi hanno tagliato le mani Mi ha sfondato la faccia E quando l'hanno finito Non ci è rimasto molto Da giottare Sicuro che ha ragione Se non era lui Se Gio fosse vivo Mi sarebbe venuto a giocciare Ok ragazzi Torniamo da vinto Mi servirà un materasso più grande Per tutti questi soldi Abbiamo fatto la cosa giusta Perciò Ammazzando gli stronzi Della mia lista Ragazzi Forse voi non vedete Abbiamo superato Un trofeo guadagnato Mi serva un favore Tipo abbiamo superato Tutte le missioni Di Svilito scaletta Allora Usciamo Ok In questo video è tutto ragazzi Un salutone Un abbraccione Ci vediamo al settimo episodio Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti